ok vediamo cosa offre il banco questo è un tonno un tonno di 200 kg le vedete pinne gialle vedete la carne com'è la carne bella fresca ok pinna gialla poi dopo esiste i pezzi sempre di tonno questo è uno spada ok questo è un lo vedete il casino la scama non mi ricordo vedete anche i pressi poi il gronco il gronco lo vedete e c'è questa molto buona la coda e salmone salmone bello e poi il melà il soliole il soliole e poi giù buoni guarda gli occhi quanto brillano poi le cozze poi il merlò grosso guarda quanto è lungo guarda la differenza la differenza è questa ma è il prezzo poi questo non so cos'è neanche la terapia la terapia la pari di lago ok poi questo è di un un brinetto e poi c'è il calamaro buono c'è il prezzo questa è una soliole guarda quanto è lunga guarda la mia mano hai vista? guarda c'è questi eccoci qua prezzo poi questi l'elettricità si chiamano da noi lotte lotte in francese ah ah direi buciuk vale prezzo poi il salmone anche il salmone prezzo è 99 tira sarebbe 10 euro al chilo come vedete la mia mano questa è la trota la trota 79 la trota poi ci sono le seppie la seppia come vedi le polipi e poi questi le calamari eeeh madonna mia non mi ricordo più crevette 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 poi questi sono le trote dell'atlas è scritto poi totani calamari insomma è scritto pure ecco questi sono i totani e questi sono le ok bel banco bel banchetto mi piace bellissimo molto bello c'è quello che fa paura questa guarda la mia mano vedi 200 kg bello perfetto le pine gialle ok al prossimo ciao 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 Grazie.